Sì, chiamiamo sul bar con Millie e una notte! Diamo il microfono anche a Millie, grazie! Allora Millie, una piccola presentazione anche per te, eh? Certo, buonasera a tutti intanto, ero già lì però adesso tra questa altra parte, grazie vedo che hanno anche i palloncini, qualcuno è scoppiato, però... Hai visto? Sì, dai, dimmi! Devo dire che sei bellissima, Sassia, veramente bella, quel fiore è stupendo, eh? Bella, bella! Allora Millie ha cominciato la sua carriera come rockettara, chitarrista e cantante di diverse rock band in Novalese Negli anni 90 c'è fu un cambiamento di stile musicale, inizia la sua esperienza nell'orchestra e da ballo, eh? Sì, Millie cantante ma anche grande compositrice, ha scritto e scrive tuttora brani per diverse orchestre Guani, Tonia, Muri, Filippo, Marco, Giusy Mercury, eccetera, eccetera, ma anche per il pop, tu non lo sai, però... No, brava, brava! Adesso un'informazione in più sulla nostra foto, ovviamente io scrivo insieme a Tony, che adesso è un giapponese, perché fa il filmino e le foto contemporaneamente, eh? E' un'amica da tutti E' troppo laura E allora questa canzone, diciamo, è una social song dedicata alle mogli trascurate Quindi io dico, moglie trascurata, corna assicurata, eh? Quindi se le moglie vengono... è meglio che i maschiati si mettano un attimino la mano sulla coscienza Certo E vedano di comportarsi bene, però per cantare questo brano, io volevo la collaborazione, perché è un po' un po' movimentato, di Angela Pavolosa Angela, un po' disattenta, Angela, vuoi venire con me a ballare questo pezzo? Vieni, 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 vieni Io ce lo vedrei bene cantando Molto, molto Devo dirvi che questo brano è stato presentato anche a pomeriggio 5 E' una barca da Lurso, eh? Che abbiamo visto in televisione da lei E ha presentato proprio questo brano che sentirete qui questa sera, eh? Angela Angela mi fa sicuramente, guarda Moglie e moglie, eccola qua Perché Angela sicuramente è stata, è una moglie, no? Sei stata moglie È stata moglie, però adesso è singola, eh? Adesso sei singola Allora, io vi lascio il microfono perché siete proprio una bella coppia, eh? Vi lascio parte, ciao Ciao Allora, tu parli e io canto, facciamo un po' di cinema Eh, va bene Ah, come parlo il parlo Eh sì, come parlo il parlo, come viene bene, spontaneo Ciao, ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti